Questa volta veramente un furto da manuale, degno di un film secondo me, che è una cosa così immaginabile. Sono esasperati i titolari di Fuligni Giochi e Sport che hanno subito la sesta razzia in poco più di un anno. A colpire ancora una volta è stata la banda del buco, persone che hanno studiato il colpo nei minimi particolari perché già sapevano come muoversi e che cosa fare per mettere a segno l'ennesimo furto all'interno del negozio in via Enrico Mattei a Fano. La notte scorsa, intorno alle 2.30, i ladri si sono introdotti dalla finestra del locale a fianco e hanno rotto il muro confinante con il negozio di giocattoli, tre i buchi, due dei quali probabilmente di prova fino a realizzare quello giusto che dà all'ufficio del piano superiore dell'esercizio commerciale preso di mira. L'allarme è scattato immediatamente ma i titolari che si sono precipitati sul posto insieme alla vigilanza e ai carabinieri non hanno notato nulla di strano una volta andati via. I malviventi hanno potuto agire indisturbati. Siamo venuti giù, abbiamo visionato da fuori perché era tutto chiuso, era tutto a posto, abbiamo guardato da fuori, era tutto ok nel negozio e quindi poi siamo andati via. Probabilmente sono rimasti nascosti all'interno? Hanno aspettato che tutto si calmasse per poi fare tutto con la massima calma perché avevano staccato gli allarmi dal muro quindi avevano neutralizzato tutto il sistema d'allarme. Oltre a provocare ingenti danni alla struttura hanno portato via materiale vario come diverse ruote d'alta gamma e una quarantina di biciclette, alcune delle quali già vendute ai clienti per un valore complessivo che si aggira attorno ai 70.000 euro. Con la tecnica utilizzata per introdursi nel locale e portare via la merce, probabilmente i ladri sono riusciti a deludere anche le telecamere esterne. Adesso visioneremo tutto, adesso ci sarà il tempo di visionare tutte le telecamere, dare tutto in mano agli inquirenti e poi vediamo.